Cercando un parcheggio per l'auto in località Pergolo di Martina Franca ci siamo accorti che in quell'area erano fermi a tarda sera una decina di autobus delle FSE. Fin qui nulla di strano se non fosse che gli autobus avevano le porte aperte. In Curio City siamo saliti a bordo e la meraviglia è cresciuta quando ci siamo accorti che tutti i bus avevano le chiavi di avviamento inserite nel quadro. Possibile ci siamo chiesti, forse ci sarà un blocco al motore abbiamo pensato ma a quel punto la curiosità è diventata irrefrenabile. Proviamo a mettere in moto e guardate. Sto accendendo le luci. Sali, fai vedere il contaggire. A quel punto noi, come chiunque altro, avremmo potuto portar via l'autobus o farci un giro. Naturalmente abbiamo spento e lasciato tutto così com'era. Ma capita sempre così? Sì.